E' stato un Natale segnato da tre tragedie, quello vissuto sulle montagne abruzzesi. Tre persone infatti hanno perso la vita in due incidenti distinti tra il giorno di Natale e quello di Santo Stefano. Due alpinisti, Raishard Barone, 25 anni, e Andrea Antonucci, 28 anni, entrambi di Corfinio, ieri hanno perso la vita mentre tentavano di raggiungere la vetta del Gran Sasso sul versante orientale. Erano con altri due alpinisti ed erano tecnicamente in conserva, cioè legati tra di loro a due a due quando sono scivolati precipitando a valle per un migliaio di metri. I supestiti hanno subito lanciato l'allarme facendo scattare i soccorsi arrivati sul posto anche con gli elicotteri del 118 di Pescara e l'Aquila, ma i tecnici del soccorso alpino e speleologico d'Abruzzo, una volta raggiunti i due giovani, ne hanno soltanto potuto constatare il decesso. Di natura diversa invece l'incidente che si è verificato sulla via del Corno Grande. Una slavina a circa 2.500 metri ha travolto un escursionista la mattina di Natale. Franca Di Donato, che avrebbe compiuto 49 anni il prossimo 7 di gennaio, era di Roseto ed era un'esperta alpinista appassionata di montagne e motociclette. A lanciare l'allarme, preoccupati per non averla vista rincasare e non riuscire a contattarla, sono stati i suoi familiari. La mattina del 26, la tragica scoperta da parte dell'elicottero del 118, che ha individuato il cadavere nel vallone dei Ginepri. Una montagna, il Gran Sasso, che soprattutto in questo periodo dell'anno è molto pericolosa, come ha scritto in un post su Facebook la guida alpina Marco Iovenitti, che ha voluto così mettere in allerta tutti gli appassionati sull'assenza di neve, ma sulla presenza di ghiaccio su gran parte dei pendii. Massima attenzione quindi, perché al momento il pericolo valanghe sulla zona, stando al bollettino dell'Istituto per lo studio della neve delle valanghe, è marcato di livello 3 su 5.